Ehi, pof, che cosa facciamo stasera? Quello che facciamo tutte le sere, Mignolo. Tentare di conquistare il mondo. Tentare di conquistare l'alterna, ma prima che nasca il sole c'è chi riscontra e finisce male. Mignolo col troppo, ma specialmente troppo. Al suo cervellone è un pericolo mondiale. Sieme fanno scintille e confinano sempre mille. La coppia di Mignolo col troppo. Maggio!